I suoi uomini si vantavano di avere portato voti al sindaco di Calatafimi, Antonino Accardo, eletto nel 2019. Bastavano solo 30 euro a bisognosi e pregiudicati per una preferenza. E il primo cittadino ora indagato si sarebbe rivolto alla cosca del Trapanese pure per recuperare una somma di denaro. Ma Niccolò Pidone, al vertice della locale famiglia mafiosa, da questa stanza fatiscente di una masseria, dava ordini su politica e affari, sugli imprenditori da intimidire poiché avevano denunciato, faceva da garante nei conflitti tra i diversi mandamenti di Cosa Nostra. Tra le sue fila anche Stefano Leo per l'accusa vicino al defunto boss Vito Gondola, l'uomo dei pizzini diretti al superlatitante Matteo Messina Denaro. Una mafia imprenditrice che è una mafia che ha infiltrato da ogni punto di vista, sia dal punto di vista politico-amministrativo che dal punto di vista imprenditoriale, il territorio. E poi imprenditori insospettabili come Salvatore Barone, finito in manette, ex presidente dell'azienda Trapanese dei Trasporti e presidente di questa cantina sociale dove avrebbe assunto parenti dei boss, agevolato Cosa Nostra con somme di denaro in deroga al regolamento statutario. Più di 100 uomini della Polizia di Stato impegnati nel blitz scattato nella notte, 13 le persone fermate dalle squadre mobili di Trapani e Palermo con il servizio centrale operativo, in tutto 20 gli indagati. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo scuote un territorio, quello trapanese, sul quale si concentra da tempo l'azione degli investigatori. Perché l'obiettivo finale è l'individuazione e l'arresto del noto latitante. Grazie. Grazie.